in questo breve video vorrei rispondere a una mail che mi è stata mandata da una persona una ascoltatrice un utente di questo canale in cui mi solleva delle domande dei quesiti e ho chiesto a questa persona il permesso di poter rispondere pubblicamente con un video anziché come solitamente faccio attraverso appunto la mail perché ritengo che rispondendo con un video possa essere questa risposta a beneficio pubblico di chi si trova diciamo in una situazione simile a quello di questa persona ovviamente nel rispetto della riservatezza e della privacy non faccio il nome di questa persona ma ho il suo permesso di poter risponderle attraverso il video questa questa signora mi dice che mi scrive che conosce i testimoni di geova da trent'anni dice che non è battezzata cioè non sono battezzata non so se è una fortuna o una sfortuna beh se è una fortuna o una sfortuna questo non posso dirglielo io signora penso che lei spero più che altro che se segue questo canale possa avere degli elementi sufficienti che possano spingerla in una direzione o in un'altra spero che lei abbia un quadro completo della situazione della realtà di questo gruppo religioso di questo culto religioso e il quadro completo sarà quello a darle la risposta se il fatto che lei finora non si è battezzata come testimoni di geova è una fortuna o una sfortuna la signora mi scrive una cosa molto interessante non si parla dice non si parla all'interno di questa organizzazione non si parla di nuovo ordine mondiale ecco questo è un punto importante su cui riflettere io mi chiederei il perché questa organizzazione non parla di quello che sta per accadere inerentemente al nuovo ordine mondiale mi farei proprio questa domanda perché questa organizzazione evita omette di parlare di nuovo ordine mondiale perché lei mi scrive se lo faccio cioè se parlo di queste cose divento loro nemica mi stanno martellando tutti i giorni per dirmi che mi devo battezzare altrimenti morirò questo è quello che la signora scrive io riporto quello che la signora scrive altrimenti moro morirò solo loro si salveranno mi stanno pressando psicologicamente cosa posso fare visto che io credo solo in dio e gesù e lo spirito santo vede signora la risposta a questa domanda cioè sul cosa posso fare se l'è data esattamente alla riga successiva se l'è data da sola lei crede in dio crede in gesù crede nello spirito santo quindi crede in dio e crede in gesù e la parola di dio dice che se credi nel figlio di dio e hai fede che è morto ed è risuscitato per i nostri peccati e per darci la vita questo è sufficiente per ottenere la salvezza per ottenere la salvezza non bisogna far parte di nessuna organizzazione religiosa perché nessuna organizzazione religiosa dà la salvezza questo questo è stato detto tante volte in questo canale la salvezza c'è solamente grazie a cristo nessun uomo nessuna organizzazione religiosa nessun culto nessun movimento religioso può mai dare la salvezza che che ne dicano i testimoni di geova oggi parlavo con una sorella con una testimone di geova dell'anticristo che verrà per aprirle gli occhi ma lei ha messo in dubbio la mia spiritualità e mi ha detto che parlo come una una evangelista mia offesa e umiliata questo è quello che scrive la signora beh è un po come diciamo è un po il discorso di prima no visto che in questa organizzazione non si parla di quello che sta per accadere quindi non si parla del nuovo ordine mondiale non si parla dell'avvento dell'anticristo eppure la bibbia lo dice perché se noi andiamo nella prima lettera dell'apostolo giovanni è scritto che l'anticristo deve venire è scritto l'apostolo paolo in tessalonicesi parla dell'uomo dell'iniquità del figlio della perdizione che sarebbe comparso sulla scena mondiale prima del ritorno di cristo ne parla eppure a dire della signora che mi ha scritto la mail questa questo questo ha suscitato nella testimone di geova una una reazione una reazione anomala perché lei dice che ha messo in dubbio la sua spiritualità mi ha detto che parlo come un evangelista ma perché come 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 parlano gli evangelisti non ho capito questa è una questa è una cosa che non comprendo ovviamente non mi rivolgo alla signora che mi ha scritto la mail ma mi rivolgo ipoteticamente alla testimone di geova che che significa parlo parli come un evangelista o credo che lei intendesse dire un'evangelica è scritto sulla bibbia che ci sarà l'anticristo e che avrebbe preceduto il ritorno di l'anticristo vedete vedete la cecità in cui versano gli appartenenti a questo culto religioso vedete che non hanno contezza dei tempi nonostante che vantano di appartenere a un'organizzazione religiosa che è sempre sul pezzo che a loro dire li avverte della fine che a loro dire li nutre spiritualmente dal loro cibo spirituale a suo tempo vi sembrano queste reazioni perché poi vedete il riscontro di quello che molto spesso abbiamo detto in questo canale poi sia le persone chi segue questo canale non solo questo canale parlo di questo perché io mi occupo di questo canale poi quello che viene detto nei video le persone trovano riscontro poi nella realtà questa è la dimostrazione che questo non è un canale che questo è un canale serio come ce ne sono anche altri altri non sono seri per niente ma ci sono anche altri canali seri perché è che è un canale cristiano questo e il cristiano è chiamato a dire la verità sempre dice mi ha offesa e umiliata e subito dopo mi ha detto ti voglio bene poi mi ha detto che le cose profetizzate nella libro dell'apocalisse o insomma rivelazione si sono già avverate con rasse pensate un po' sì perché i testimoni di geova veramente credono questo questo abbiamo detto anche in altri video è stato detto anche in altri video presenti sempre su questo canale i testimoni di geova credono che parte di quello che c'è scritto sul libro di rivelazione o apocalisse compreso quello che deve ancora accadere già si è avverato ai tempi di rassel di rutherford che sono stati i loro i loro precursori i loro fondatori e che quindi non riguardano i nostri giorni mi viene da dire dormite pure sonni beati i testimoni di geova nel frattempo sta succedendo tutto quello che vediamo voi continuate a seguire questa organizzazione continuate a seguire il vostro corpo direttivo continuate a seguire queste guide cieche che la strada è quella migliore che tristezza veramente bene poi la signora si congeda dicendo che attendeva una mia risposta e la risposta eccola è arrivata signora io spero di essere stato esaustivo ho voluto fare questo video per rispondere appunto come dicevo prima perché proprio per innanzitutto come detto all'inizio perché spero che questa risposta possa essere di beneficio pubblico anche per chi si trova in una situazione simile a quello di questa a quella di questa signora ma poi anche per darvi un'ulteriore prova che quello che viene detto in questo canale le volte in cui si è parlato dei testimoni di geova ma questo è un canale ampio che parla anche di altro sempre inerentemente alle scritture alle profezie alla parola di dio un canale evangelistico parla che si propone di predicare insomma però le volte in cui in questo canale si è parlato di testimoni di geova si è parlato in modo veritiero reale qui nessuno se non 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 il sottoscritto in quello che ha detto sui testimoni di geova non si è inventato niente perché poi vedete che i riscontri poi come dicevo prima poc'anzi le persone li hanno proprio sul campo come questa signora signora la mia esortazione alla fine di questo video che concludo e si distacchi mentalmente emotivamente e psicologicamente da questa organizzazione lei mi dice che non è battezzata e questo può non può essere un vantaggio lei ha bisogno di distaccarsi emotivamente visto che poi come mi ha scritto si è sentita offesa e umiliata il mio consiglio è questo appunto si distacchi emotivamente preghi legga la bibbia ma la legga da sola senza l'ausilio del sito dell'organizzazione senza le pubblicazioni la legga chiedendo la guida dello spirito santo e se c'è qualcosa che non capisce che non comprende o che le rimane difficile io personalmente sono a sua disposizione attraverso questo mezzo se posso aiutarla lo faccio volentieri ma si distacchi mentalmente ed emotivamente da questa organizzazione ha bisogno di disintossicarsi provi a fare così e e vedrà che con il tempo le cose andranno nettamente meglio glielo dico perché altri nella sua stessa condizione seguendo questo consiglio ne hanno tratto beneficio e si ricordi una cosa e poi chiudo il video la salvezza è solamente in cristo gesù e non è in nessun altro creda nel figlio di dio riponga fede in lui anche con un minimo un briciolo di fede sarà sufficiente sarà sufficiente a che lei sia guarita liberata da ogni angoscia da ogni ansia in questo senso e che abbia la salvezza della sua della sua anima grazie per l'attenzione e vi do appuntamento per un prossimo video e dio vi benedica buona buona serata e buon sabato